Ah, non lo sapevi? Ebbene sì, secondo il decreto requisiti del 6 agosto 2020, anche per gli ecobonus ordinari, per intendersi quelli al 65% o al 50%, dovrai realizzare o far realizzare un computo metrico e confrontare i prezzi inseriti dalle imprese con quelli del prezzario regionale o del prezzario dei. La quota di prezzo, eccedente il costo indicato nel prezzario, non può essere portata in detrazione. Ad esempio, se all'interno del prezzario la fornitura del sughero costasse, diciamo, 30 euro al metro quadro, mentre l'impresa la prezzasse a 40 euro al metro quadro, questi 10 euro di differenza non possono essere portati in detrazione. E inoltre, anche per gli ecobonus ordinari, occorre l'asseverazione del rispetto dei requisiti da parte di un professionista, ingegnere, architetto, geometra o perito. Ma tranquillo, fortunatamente, in alcuni casi, ci viene in aiuto l'allegato A dello stesso decreto. Di fatti, l'articolo 13.2 sostiene che Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, L'ammontare massimo delle detrazioni è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, di cui all'allegato I del presente decreto. Quindi, cosa ci dice il decreto? Che, per alcuni ecobonus al 50 o al 65%, l'asseverazione del professionista può essere sostituita da una dichiarazione o del fornitore o dell'installatore, idraulico, elettricista, eccetera. Questa dichiarazione deve contenere il rispetto dei requisiti di legge, nonché il rispetto dei prezzi unitari dell'allegato I. Così facendo, ti eviterà il computometrico. Ma quali sono questi ecobonus per cui è sufficiente la dichiarazione o del fornitore o dell'installatore? I primi riguardano la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di potenza non superiore a 100 kW dotati di pompe di calore, anche geotermiche, oppure di caldaia a condensazione o generatore di aria calda a condensazione, ma anche di sistemi ibridi. Si può approfittare dell'allegato I anche per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore. Per l'installazione di generatori a biomasse, come il pellet o il legno, anche la sostituzione delle finestre e la posa delle schermature solari ricadono tra gli ecobonus meno complicati. Infine abbiamo i collettori solari e l'installazione di sistemi di building automation. Viceversa, richiedono sempre la congruità delle spese e quindi il computometrico, la riqualificazione globale, la coibentazione delle strutture opache, per intendersi il cappotto o l'isolamento termico interno, l'installazione di microgeneratori, ma anche il bonus facciate nel caso in cui si coibentino le strutture verticali. Quindi, quando la normativa te lo permette, per semplificarti la vita, richiedi, anzi, pretendi queste dichiarazioni o dall'installatore o dal fornitore. Prima di salutarti, vediamo rapidamente quali sono i prezzi massimi unitari dell'allegato I e più che altro vorrei soffermarmi su alcuni dettagli. Prima di tutto, i costi in tabella non considerano l'IVA, le prestazioni professionali e tutte quelle opere complementari relative all'installazione e alla messa in opera delle tecnologie. Quindi, si parla solo di fornitura. Vediamo un esempio della tabella. Partiamo dagli infissi, il cui prezzo massimo, direi giustamente, dipende dalla zona climatica dove verranno installati. Nelle zone, diciamo, più calde, al massimo potrai detrarre 550 euro ogni metro quadro. Mentre, nelle zone più fredde, si passa a 650 euro al metro quadro. Poi, ci sono le schermature solari. Il solare termico è molto interessante e la questione degli impianti, dove, oltre a fornire un prezzo per il generatore, ad esempio per le caldaie al di sotto dei 35 kilowatt, si tratta di 200 euro ogni kilowatt termico, la normativa prevede anche un prezzo al metro quadro per quanto riguarda il resto dell'impianto. Nel caso di riscaldamento a pavimento, si hanno a disposizione 150 euro ogni metro quadro e 50 euro ogni metro quadro per quanto riguarda gli impianti a radiatori, a fan coil, eccetera. Infine, per la building automation, il prezzo massimo detraibile è di 50 euro al metro quadro. Eccomi qua, abbiamo finito. Non dimenticare di iscriverti al mio canale e di pormi delle domande qui sotto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!